buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video nuovo format è un nuovo gioco gioco che si chiama multiversus un picchiaduro free to play che è uscito in open meta il 26 luglio su tutte le piattaforme per trovarlo su playstation store, su xbox store, su steam, sul launcher dedicato direttamente da EB Games è un picchiaduro brandizzato Warner Bros quindi con tutti i personaggi della Warner passiamo dai Looney Tunes ai personaggi Disney Comics sia serie tv che fumetti che videogiochi quindi è un'ampia scelta di personaggi un picchiaduro davvero interessante con la stessa o anzi con la meccanica simile a battle royale di Fortnite con pass battaglia per sbloccare oggetti decorativi e skin un picchiaduro davvero divertente che se vuoi giocare in 1v1 come prima di questo analito tra superanti il nostro diavoletto della Tasmania Taz ma ci sono altre modalità che sono due giù di due squadra e il jet la meccanica è interessante ho letto in giro che qualcuno si lamenta un po' della meccanica secondo me è un picchiaduro davvero davvero interessante se non mi sbaglio fatemi sapere con un commentino qui sotto se anche voi l'avete scaricato o se ci state giù noi siamo arrivati a sbattaglia sullo score c'è come era accaduto per Fortnite il profondatore che si promette il costo di 29 euro se non mi sbaglio ci potrà a lungo andare dare un sacco di benefici tra cui penso come per voi i WBucks con alcune missioni donaliere per poter poi sbloccare oggetti e personaggi e cos'altro dire? altra cosa interessante che anche non avendo bloccato un personaggio secondo Warner ogni 8 giorni potremmo trovare 4 personaggi a rotazione in modo gratuito quindi nella prima settimana c'erano se non mi sbaglio Harley Quinn, Taz e gli altri non mi ricordo questa settimana abbiamo Superman, Wonder Woman che sarà sempre presente in modo gratuito squadra rossa mi hai centrato bene i personaggi con il fatto che ogni 8 giorni o 6 giorni se non mi ricordo ci sarà la possibilità di colare gli anni non sarà obbligatorio ma sbattaglia ovunque a comprare i titoli con la valuta per poter sbloccare il personaggio e chiaramente tutti i progressi fatti in diversi giorni perché il personaggio che sblierete rimarranno secondo le fonti speciali che non l'hanno salvati quindi è una cosa davvero interessante per questo video tutto vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati lasciare un bel like per supportare il finale fatemi sapere in quel commentino sotto se volete qualche altro video dedicato a questo gioco perché ci sono missioni giornaliere che mi danno vettoni per sbloccare le skin e fatemi sapere se vi interessa anche come marca per continuare con questo gioco noi ci vediamo al prossimo video e buongiorno a tutti ciao vittoria ciao 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 ciao